E mentre Smelly si mangia il suo osso, si vede? Io vi spiego i gallicismi, le gallicisme. Allora, i gallicismi sono dei modi di dire, diciamo, di fare la frase, delle alternative su come formare delle frasi che risalgono nel tempi dei galli e che i francesi hanno mantenuto. Allora, i gallicismi sono tre. Il primo è il passé recent, si può tradurre con passato recente. Ed è ciò che si è appena fatto. Il secondo è il présent continuo, ma anche il chiamato présent progressif, che corrisponde al nostro gerundio. Quindi, ciò che si sta facendo in questo momento. Il terzo è il futur proche, cioè il futuro immediato, imminente, che noi traduciamo con stare per fare qualcosa. Allora, il passé recent si forma con soggetto, il verbo venir, che dopo vi spiego, la particellina de e il verbo all'infinito. Per esempio, ho appena mangiato, je viens de manger. Il présent continuo si forma con soggetto, il verbo essere, être. La particella en train de, che significa in treno di, vabbè, ma non vuol dire niente. E il verbo all'infinito. Quindi, sto mangiando, je suis en train de manger. Il futur proche invece si forma con soggetto, il verbo aller e subito il verbo all'infinito. Sto per mangiare, je vais manger. Je vais manger. I verbi, madonna, è disgustoso però i rumori che fa. Vabbè. I verbi venir e aller sono due verbi del terzo gruppo. Così, quindi, diciamo che come primi verbi del terzo gruppo facciamo venir e manger. Il verbo être, essere, già lo conoscete. Allora, venir, è così. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, il vient. Aller, invece, andare. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, il vont. E con questo vi lascio la diapositiva. Ciao! Melly, saluta! Melly! Ciao! 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 Grazie a tutti.